Buonasera, parliamo subito della grande emergenza, del grande grana per tutti i sindaci che è stata l'emergenza Covid, un periodo molto complesso, com'è andata a Fonzaso? A Fonzaso è andata relativamente bene, non abbiamo avuto un gran numero di casi, abbiamo avuto 18 casi positivi, parecchi in isolamento fiduciario, però anche i casi positivi abbiamo avuto purtroppo un signore che è deceduto in casa di riposo, però i positivi la maggior parte erano quasi tutti se non asintomatici con pochi sintomi, il signore in casa di riposo stava per superare la positività, dopo chiaramente vista l'età, vista la mancanza di visite dei figli si sono associate tante complicazioni, purtroppo è morto, mi dispiace per i familiari e su questo punto vorrei fare veramente anche i complimenti alla casa di riposo, a tutto il personale, la dirigenza che ha saputo originare questo caso che avevano all'interno che tra l'altro era arrivato dall'ospedale di Feltre per quella famosa infezione che l'ha partita del reparto geriatria e con l'aiuto anche dell'ospedale di Feltre che ha dato i primi dispositivi perché in quel momento, si ricorderà, eravamo tutti in panico, non si trovavano mascherine, non si trovavano guanti, non si trovavano niente, siamo stati supportati anche dal dottor Gioffredi che ci ha fornito i primi DPI per entrare nelle stanze di questo signore, noi abbiamo cercato in tutti i modi di aiutare anche noi la casa di riposo come amministrazione e loro veramente sono stati bravissimi perché è stato l'unico e solo caso che si è riscontrato a Fonzaro. E poi appunto le case di riposo un po' dappertutto avevano dato delle problematiche, c'è stata anche la chiusura delle scuole ovviamente, ci sono stati poi tutti dei disservizi che si sono messi in pausa, praticamente eravamo tutti allo sbando in quel momento, non si sapeva veramente più da che parte girarsi anche perché è arrivata una cosa improvvisa. A proposito delle scuole, noi per la ripresa nonostante ci siano stati diversi cambi di direzione a parte del Ministero, cifre, mica cifre, misure, mica misure, abbiamo già relato con il nostro ufficio tecnico, con i nostri tecnici un piano con tutte le aule a norma, con le distanze a norma e saremo in grado di far partire la scuola. L'unico inconveniente era già una decisione presa in passato che doveva andare praticamente a ridimensionare la scuola di Arten. La scuola di Arten avendo le aule molto più piccole rimarranno ad Arten probabilmente solo due classi, le ultime due. Le altre verranno portate tutte a Fonzaro e riusciremo nonostante queste misure precauzionali ad ospitare nuovamente anche le tre classi di scuola media di Arsie che sempre per colpa del Covid non sono riuscite ad ultimare il loro istituto perché hanno bloccato i lavori e non ce l'hanno fatta arrivare all'ultimazione. Sicché anche quest'anno ospiteremo ancora Arsie, non so se tutto l'anno ma penso che se partano con un anno scolastico qua lo finiscano e finiscano con calma il loro istituto però siamo riusciti a organizzare già tutto. Quindi con i trasporti scolastici per esempio? Adesso stiamo valutando anche quelli, abbiamo un incontro proprio a giorni con la dirigenza scolastica e il comune d'Arsie per sistemare le ultime cose e noi dovremo essere a posto. Parlando invece ancora dell'emergenza Covid avete continuato a lavorare anche su progetti un po' più di lunga durata, uno di questi è uno dei punti di interesse del territorio è San Micella, lì si è accumulato un po' di ritardo. Sì, l'ha accumulato ritardo, infatti io avevo già detto anche in questa trasmissione che eravamo pronti per partire, chiaramente questo problema ci ha bloccato. Dopodiché è emersa anche la necessità che onestamente non avevamo valutata del benestare della sovrintendenza per i beni ambientali e pesaggistici. Abbiamo chiesto l'intervento della sovrintendenza, abbiamo avuto la visita proprio ieri e ci hanno dato il loro assenso per fare quello che avevamo programmato. Il programma è praticamente la riqualificazione di tutto l'impianto elettrico per l'illuminazione, che però deve avere delle luci che siano a norma per quanto riguarda la paesaggistica e anche la messa in sicurezza del sentiero che sale, anche quello ci hanno detto che quello che avevamo già in programma come progetto è attuabile e adesso partiremo veramente. È una vicenda strana quella delle luci perché sono le luci che si vedono quindi dal paese, invece una volta c'era l'uomo che guardava che non ci fossero brutte luci. C'era l'uomo che guardava che non ci fosse qualche luce sospetta che potrebbe essere un incendio. Questa è una storia che l'ho raccontata proprio ieri alla sovrintendente e mi diceva ci sarebbe da scrivere un libro su questo, l'ha già fatto, qualcuno ha già raccontato questa cosa. Saliamo di quota. Marga Campon. Marga Campon, siamo stati sulla cronaca quasi tutti i giorni ultimamente l'ha successo, Marga Campon non è fortunata, ogni volta che c'è una ristrutturazione succede qualcosa e sicuramente Vaia non ha aiutato, adesso abbiamo anche il problema appunto che c'è il recupero di tutto il Leogname e ha massacrato tutto su Pascolo non Pascolo, lo dobbiamo fare perché sappiamo che i problemi ci sono lasciandolo là. E niente, Marga Campon eravamo usciti con il bando per una gara di giudicazione e siamo stati un po' criticati perché i Giacometti, gestori storici, sono stati esclusi a detta di qualcuno, ho avuto anche delle mail da parte di persone, i Giacometti hanno deciso di non partecipare per questioni loro e abbiamo avuto un solo partecipante a questo bando di gara che era una società che si stava formando, erano partiti. Alla fine ci sono state delle problematiche con questa società che non sono riusciti a costituirsi come volevano, ma non solo, anche noi non eravamo ancora pronti come amministrazione, come struttura perché questi ritardi ci hanno portato ad avere un ritardo, sì questo Covid ci ha portato ad avere un ritardo sui lavori e ci mancano ancora dei collaudi di alcune strutture sicché non avremmo potuto consegnare nemmeno noi in tempo utile la struttura dell'agriturismo. Invece abbiamo raggiunto un accordo con questa società che loro salgono con delle manze per mantenerci il pascolo, è una cosa utile ad entrambi perché noi avremmo dovuto altrimenti fare la manutenzione del pascolo, togliere le erbe infestanti, fare lo spaccio, raccogliere il foraggio e per l'amministrazione sarebbe stata un'ulteriore spesa, invece salendo le manze e loro pascolano, ci fanno la manutenzione del pascolo e noi abbiamo fatto un contratto così simbolico, però almeno abbiamo il pascolo curato e speriamo intanto di finire i lavori con tranquillità e con l'anno prossimo partire veramente come deve partire Maiga Campon, come merita di essere un posto bellissimo, non mi stancherò mai di ripeterlo, quando sei là vedi il mondo, il paradiso e speriamo di portarla veramente a quello che abbiamo in mente di fare. Tra le difficoltà che ci sono state citava Vaia che ha creato anche altre preoccupazioni più a valle, parliamo degli argini del cismo che interessano anche un'arteria importante di transito di auto. Sì, Vaia ha praticamente distrutto parecchi tratti di agili, due tratti sono stati subito messi in sicurezza, fatti dei lavori importanti, uno interessava gli allevamenti della ditta gorza che se entravano e portavano via maiali era anche un problema sanitario, quello è stato fatto subito. Dopodiché abbiamo un tratto che riguarda l'abitato da Ghana e l'altro che riguarda la statale, se l'abitato da Ghana fosse un po' meno pericoloso perché è proprio la fine, però un altro Vaia entrerebbe sui prati che costeggiano le case, arriverebbe a rambire le ultime case probabilmente. Dall'altra parte verso case Balzani invece il ramo del cismo che è stato anche un po' indirizzato durante il ripristino dell'altro argine punta direttamente appena dopo lo svincolo di case Balzani, là l'argine non c'è più, un altro evento di quel genere arriverebbe ad attaccare veramente e pericolosamente la strada statale e là adesso io sto cercando con il genio civile portare avanti anche questi due tratti di argini perché sono veramente necessari. Sì appunto perché poi la statale appunto è l'unica via di comunicazione che abbiamo verso la Vasugana, se si chiude quella siamo isolati. Avrebbe appunto delle ripercussioni molto importanti anche in danno sulla zona industriale, sulla zona industriale dove qualcosa si sta muovendo. Sì, come avevo già detto si sta muovendo, abbiamo avuto due capannoni storici, i primi insediamenti che erano due cattedrali nel deserto ormai abbandonati anche a se stessi veramente, l'ex Betonpiave e la Fonderia Rigon che sono stati acquisiti entrambi. L'ex Betonpiave è stata acquisita dalla Forza Luminio, Almax che anche loro dovevano partire con i progetti, poi hanno avuto delle riunificazioni interne di società e hanno fatto una nuova società chiamata Pedavena Servizi. Sicché si sono un po' fermati anche loro, un po' il Covid, un po' tutto, adesso stanno ripartendo con la progettazione anche loro, hanno in mente di insediare una linea di presse, di fare della produzione anche a Fonzaso. Comunque ha già ripulito tutta l'area, si hanno riportato un po' di... L'ex Fonderia è stata acquisita da una ditta che fa lavorazioni in materie plastiche, praticamente riciclano la materia plastica, però avevano dei problemi con le autorizzazioni dei vigili del fuoco, dovevano staccarsi dal capannone che ha dei proprietari e delle sue strade. Dopo varie valutazioni hanno deciso proprio qualche giorno fa di fare tutto nuovo, gli conviene, è più conveniente per loro demolire il vecchio, rifare tutto il capannone, sicché anche là c'è un leggero ritardo per partire con la produzione. Dopodiché c'è un'altra vendita che era andata all'asta qualche tempo fa, l'ex McFay, è stata acquisita da una ditta di Trento, la gamba rotta mi sembra, che fa una produzione di carpenteria in ferro, carpenteria speciale in ferro e anche quelli portano la produzione dal Trentino, vengono a insediarsi a Fonzaso, sono già avanti anche loro con le progettazioni. Sicché diciamo che c'è una bella prospettiva per la zona industriale di Fonzaso, sempre sia insediando qualche ditta buona, sana, che dopo tutte quelle che abbiamo già, abbiamo dato delle ditte veramente valide. E però tra i tanti posti di lavoro che si sono sviluppati, tra le tante realtà economiche che si sono sviluppate, ce n'è una attualmente in meno che è finita nelle cronache giudiziarie, parliamo della SAP, e bisognerà fare tutto un lavoro di recupero poi di quell'area. Là è un problema, è un problema ambientale, ecologico, è un problema oltre che il problema che sono mancati i posti di lavoro, sicuramente il problema del fallimento della SAP, però il problema è quello che è rimasto sul terreno. Là adesso è stato nominato un curatore fallimentare, l'avvocato Luciano Licini di Fedre, che veramente si sta dando da fare in una maniera meravigliosa, ha avuto contatti subito con noi come amministrazione, con la provincia, sono già state incassate due fideiussioni che erano per la copertura della ditta, sì, dei danni che poteva fare la ditta, sono già state incassate. Adesso c'è la vendita di attrezzature di questa ditta e si dovrebbe arrivare a coprire, se non in toto, quasi in toto, il costo della bonifica, che sono diversi soldi, non è che che sia poco, perché se parlano di tonnellate e tonnellate, metri cubi di rifiuti, praticamente erano rifiuti che potevano essere riciclati a suo tempo, ormai sono rifiuti, dovranno andare smaltiti. E qua veramente il curatore fallimentare sta facendo un grosso lavoro. si pensa di riuscire a farlo in tempi abbastanza brevi. E lì naturalmente il problema ambientale è abbastanza... Sì, il problema ambientale è quello principale, perché siamo vicino al cismo, potrebbe esserci delle perdite, delle fughe di percolato che entrano nel torrente. Abbiamo visto svilupparsi incendi strani su depositi di plastica, non vorrei mai e mi auguro che non succeda mai. Sì, forse questo non è il caso, però in questo caso sarebbe veramente un danno ambientale mostruoso per la piana di Fondaso. E quindi speriamo non si materializzi. No, 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 l'ho detto per scaramazia, ma sicuramente no, no, no. Beh, insomma, però abbiamo visto che la strada per la bonifica è già molto impostata. Sì, no, io penso che veramente a tempi relativamente brevi si riesca a bonificare tutto. Dopo non sarà lavoro di un giorno, perché... Sicuramente bisogna dividere bene poi anche i materiali e smaltirli nel modo corretto. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, ringraziamo il sindaco Slongo per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata. Con questo è tutto, quindi buona serata. Grazie a tutti.